Scuola, famiglia, mass media, lavoro e società, dalla chiesa la proposta di collaborazione per un'alleanza educativa finalizzata alla crescita delle persone e al bene comune. Sentiamo Piero D'Amosso. iPod, computer, cellulari, tv, radio, basta l'uso dei mezzi di comunicazione per riempire le vite. Le emozioni che nascono dalle novità tecnologiche diventano valori, punti di riferimento e il desiderio di autorealizzazione conta più del bene comune. Da qui l'emergenza educativa richiamata nel rapporto a cura del Comitato per il Progetto Culturale dei Vescovi Italiani pubblicato dalla Terza. Non è solo questione di tecniche educative, bisogna coltivare quello che è fondamentale nell'uomo, l'intelligenza e la capacità critica certamente, ma anche la capacità di stare insieme, di essere solidari, la libertà ma sempre unita al senso di responsabilità. E negli educatori l'autorealizzazione, la credibilità dell'educatore. La scuola sembra ormai ridotta, si legge nel rapporto, ad addestrare gli studenti piuttosto che a formare coscienze critiche, aperte alla verità, alla ricerca del senso della vita e dei diversi saperi. Quale educazione è possibile in una società dove molti cercano scorciatoie per arrivare al risultato che interessa? Cercare scorciatoie è tipico di noi italiani, io vorrei dire ai ragazzi che studiano per esempio, non cercate scorciatoie nello studio, prendete la strada più lunga che però quella che porta veramente a un risultato che non è soltanto la promozione scolastica ma vi serve per la vita.